38 gradi e 6 a Trebaseleghe e a Rosà tra Alta Padovana e Bassanese, 38 gradi e 3 a Verona, 37.1 a Treviso. Caldo record in Veneto nella giornata di ieri con temperature di quasi 10 gradi superiori alle medie del periodo, decisamente anomale anche in montagna. Nella giornata di ieri abbiamo appunto avuto l'apice del caldo, quindi con temperature massime che hanno raggiunto anche 38-39 gradi e localmente per alcune stazioni della bassa veronese è proprio stato il record storico dal 1992, quindi 38,8 temperature rilevate in alcune stazioni della bassa veronese. Anche la Pedemontana, comunque la Pedemontana Vicentino ha raggiunto record storici con 38 gradi e mezzo di temperatura. A Roverchiare e Sorgane, il Veronesi, 38,8 record anche per Trissino e Valdagno, dove il termometro per la prima volta dal 1992 si è fermato a 38,5. Se di giorno fa caldo, di notte non va meglio. Abbiamo avuto temperature minime, anche questa è ben superiore alla medie del periodo, ben superiore ai 20 gradi, anche localmente superiore ai 24 gradi, quindi si parla appunto di notti tropicali. A Teolo, sui Colle Eugani, la temperatura minima è stata di 24 gradi, decisamente alta. Non un vero e proprio conto alla rovescia, quello che ci attende per tirare un respiro di sollievo. Domenica il termometro si fermerà a 35 gradi dalla serata, le prime precipitazioni. Arriverà questa perturbazione che appunto si avvicinerà nel corso di sabato e domenica, quindi un parziale cedimento della pressione si avrà già domenica, ma il passaggio vero e proprio sarà da lunedì, quindi avremo precipitazioni a partire dalle zone montane e via via diffuse anche a tutto il territorio regionale nel corso della giornata di lunedì. Per capire l'intensità dei temporali è presto, ma la probabilità di violente grandinate è alta. Localmente potranno quindi verificarsi nei locali temporali intensi. Stiamo valutando l'evoluzione quindi di giorno in giorno quello che accadrà. La valutazione di eventuali allertamenti sarà comunque fatta nel fine settimana.